Benedetto Croce nacque a Pescasseroli il 25 febbraio 1866 e morì a Napoli il 20 novembre 1952. È stato filosofo, storico, politico, critico letterario e scrittore italiano, principale ideologo del liberalismo novecentesco italiano ed esponente del neo-idealismo. Nella filosofia crociana la scienza diventa la misuratrice della realtà sottomessa alla filosofia che invece comprende e spiega il reale. Benedetto Croce e l'Abruzzo, un legame forte che passa attraverso tre comuni inseriti tutti e tre in aree protette, Pescasseroli dove Croce nacque, Monterodomo, paese di origine della famiglia paterna, Raiano, centro che il filosofo frequentò per 20 anni durante le estati. È considerato tra i maggiori protagonisti della cultura italiana ed europea della prima metà del 1900. La dottrina crociana improntata alla storiografia ebbe grande influenza politica sulla cultura italiana. Croce in particolare con la sua religione della libertà è ricordato come guida morale dell'antifascismo. Fu anche autore del manifesto degli intellettuali antifascisti. Perché difendiamo per il bene di tutti quadri, musiche e libri e non difendiamo le bellezze della natura? Si chiedeva Croce, convinto che nella difesa delle bellezze naturali ci sia un altissimo interesse morale ed artistico. L'uomo, infatti, è il prodotto, oltre che delle condizioni sociali, del momento storico in cui è nato, del mondo che lo circonda, della natura in cui vive, del clima, del cielo, dell'atmosfera in cui si muove e respira. Monterodomo è un comune abruzzese della provincia di Chieti, i cui abitanti sono detti Monteneresi, facente parte dell'unione dei comuni montani del Sangro. Benedetto Croce ne scrisse, la terra di Monterodomo sorge sopra una rupe calcarea, a circa 1200 metri sul livello del mare, all'inizio della valle inferiore del Sangro, che sta domina, isolata, com'è tutto intorno. Tra occidente e settentrione resta innanzi il gran massiccio della magliella, al quale la congiunge un suolo tutto onde e rigonfiature, e poggi e colline, verdeggiante e biondeggiante per pascoli e seminati, o nereggiante per selve, e qua e là brullo e sassoso. Non è un paesaggio a meno irridente, è anzi un po' triste, non variato da alberi, non avvivato da casolari, inquieto e affannoso in quella sua configurazione ondulata. Sulla rupe di cui parliamo esisteva certamente negli antichi tempi un oppido, come non solo è lecito congetturare, ma attestato dagli avanzi che si vedono sotto di essa, di quelle mura poeticamente denominate ciclopiche, e forse rientrava nel territorio di Iuvanum, i cui ruderi sono sparsi nel pianoro. Fu quindi antica città frentana, carecina, che poi divenne municipio romano. Originariamente era appunto Iuvanum, citato nel Liber Coloniarum, dove viene elencato come Iobanos, o forse come affermato da Plinio, Iuvanenses, una derivazione di Lanuenses. Il nucleo originario si trova lungo l'odierna strada, che da Monterodomo porta a Torricella Peligna, e verosimilmente il primo nucleo si trovava su una sorgente, dove i pastori, dediti alla transumanza, facevano abbeverare le loro greggi. Nell'età repubblicana, l'oppido preromano si sviluppò sulle colline di Mitrofe, tutto intorno. Nello splendido scenario della maiella orientale si apre quindi Iuvanum, un'area archeologica vasta, ricca di storia. Si ha l'impressione di entrare in un quadro en plein air, una finestra sul passato, dove le importanti rovine risaltano, circondate dalla natura. Dell'insediamento originario dei sanniti carricini rimane il santuario, con due templi affiancati, e il piccolo teatro, con scena e gradini in pietra. All'età romana risalgono invece gran parte dei resti archeologici oggi visitabili, le strade lastricate, il foro, pavimentato con lastre di pietra e circondato da botteghe, edifici pubblici e poco distanti le terme. Resti di un insediamento romano successivo alla guerra sociale, che si svolse tra il 91 e l'88 a.C., sono un foro, un tempio e una basilica. Si pensa che il nome Iuvanum derivi dal fatto che il centro fosse abitato inizialmente da Juvenes, ossia da giovani, oppure da un santuario dedicato a Juventus, la dea della gioventù. Entrando nel parco archeologico di Iuvanum, nella suggestiva luce del tramonto, in un silenzio quasi irreale, si ha l'impressione di rivivere emozioni antiche, di attraversare secoli di storia, di coniugare il passato con il presente e di immaginare un nuovo futuro.